c'è l'ora buonatena 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 che l'ho visto con tanto che l'ho visto con tanto giù stasera parliamo della pazzatura che c'è in Napoli c'è qualcuno che vuole parlare me ne parli lei mi dice tutto allora vuol dire che c'è in Napoli ma che cazzo beh si? ma che c'è in Napoli e cazzo un attimo un attimo c'è un nuovo obbligio c'è un nuovo obbligio bene lei è chi era anche presenti ma chi è un macino o monostato? bene chi è fatto una domanda ai nati? mi? ma non capisco tu? no, ma io tu? buoni 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 crosta crosta cr no ok 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 ok